Abbiamo visto parlare una mezz'oretta con Giorgio Repetto e Bocchetti, insomma, soddisfatti per questo pareggio. Dopo aver rischiato di dilagare, il Pescara nella ripresa ha rischiato di perdere questa partita. È un po' lo specchio, forse, questa partita di questo campionato. Però nel primo tempo, se fosse finito il primo tempo 4-5 a 0, prima di quei minuti finali, ci sarebbe stato poco da dire. Sì, la disamina è perfetta. Nel primo tempo abbiamo dominato la partita, giocando bene, creando tante palle e gol. Siamo riusciti a metterne dentro solo due e poi su due palle che vagavano nell'area di rigore abbiamo preso due gol. Però poi nel secondo tempo il Perugia ha giocato sicuramente un pochino meglio rispetto a noi. Sì, credo che tutto sommato il risultato alla fine sia giusto, però noi prendiamoci per buono quello che abbiamo fatto e ripartiamo da qui. Primo gol del Perugia, palesemente in fuorigioco. Non se ne è accorto nessuno, ma dalle immagini così è sembrato. Non so se ne avete parlato negli spogliatoi, se è uscita fuori questa notizia. Iemmello era nettamente in fuorigioco. Da sopra sinceramente non l'ho vista. Poi magari domani quando si rivedranno le partite ci si accorgerà che abbiamo preso un gol in fuorigioco. Però non lo dovevamo prendere tutto qua. Quindi abbiamo sbagliato qualcosa noi, come succede spesso quest'anno. Però prendiamoci quello che abbiamo fatto di buono e cerchiamo di riportarlo lunedì a Venezia. Perché credo che se giochiamo con questa determinazione e questa cattiveria possiamo giocare tranquillamente contro tutti. Come ha visto il Pescara di Sottil? A ripeto, il primo tempo molto bene. Poi nella ripresa siamo anche un po' calati fisicamente perché comunque cominci a fare due o tre partite alla settimana. Sicuramente non è semplice. Però devo dire che credo che abbia iniziato col piede giusto. La classifica dice che questa sera il Pescara è a un solo punto dalla zona play-out. Erano cinque dopo la partita vinta con la Juve Stabia. Significa che dobbiamo fare meglio. Intanto non ci siamo nei play-out, quindi guardiamo l'aspetto positivo e non quello negativo. Già lunedì abbiamo uno scontro diretto contro il Venezia e cercheremo di fare il meglio possibile. Preoccupato il presidente Sebastiani della classifica perché le squadre dietro hanno accorciato. Ora c'è questa gara con il Venezia, poi il Frosinone, poi la partita con il Trapani, il Livorno e si chiuderà a Verona con il Chievo. Non è un calendario facilissimo eccezione fatta per la gara con il Livorno? Non è facilissimo per nessuno perché se andiamo a vedere le partite che restano, di quelle che sono più o meno nella stessa nostra posizione, sono tanti scontri diretti. Il Perugia stesso ha una serie di scontri diretti che però se tu vuoi salvare devi cercare di fare risultato. Così come lo dobbiamo fare noi, dobbiamo fare gli altri, guardiamo in casa nostra e cerchiamo di fare il meglio possibile. Politica di piccoli passi, potrebbe bastare anche un pareggio a Venezia o comunque l'importante è non perdere in uno scontro diretto come quello del Penso? Beh certo, sicuramente bisogna cercare di non perdere sicuramente, come diceva Giorgio, bisogna cercare di vincere ma stando attento a non perdere. Andiamo a Venezia consapevoli della nostra forza però dobbiamo avere massimo rispetto degli avversari e quindi cercare di fare la partita per come la vogliamo fare noi. Ultime due domande Presidente prima di lasciarla. Questa sera vedendo Melchiorri e Iemmello nel Perugia giocare così direi bene soprattutto Iemmello ma anche Melchiorri cresce il rammarico per non essere riusciti. Ci avete provato fino all'ultimo secondo del mercato di portare a Pescara uno dei due attaccanti? Sì, sì, però sono due attaccanti forti, lo sapevamo, non è che ci deve dire qualcuno che Iemmello e Melchiorri sono forti. Perugia non c'ha solo i Melchiorri. C'è una squadra forte e anche loro credo che si trovi in una situazione che non si aspettavano all'inizio di questo campionato. L'ultimissima Presidente dopo la gara di Venezia si tornerà allo Stadio Adriatico, ci sono novità per una possibile apertura dello stadio almeno agli abbonati? Non ancora, non ci sono novità, ad oggi non ci sono novità ma credo che sarà difficile avere delle novità da qui alla fine del campionato perché non si muove nulla quindi credo che rimarremo così fino alla fine.